Oggi parliamo di complemento oggetto e lo facciamo partendo, come al solito, da alcuni esempi. Dario compra il giornale, papà vuole vedere te. Le parole che abbiamo messo in evidenza in rosso, il giornale e te, rappresentano i termini dove ricade l'azione fatta dal soggetto, nel primo caso Dario, nel secondo il papà, e che transita su un verbo, compra nel primo caso e vuole vedere nel secondo caso. In questa circostanza noi possiamo dire allora che il giornale e te sono dei complementi oggetto. Allora proviamo a dare una definizione di complemento oggetto. Il complemento oggetto indica la persona, l'animale o la cosa su cui ricade l'azione del verbo direttamente. Cosa vuol dire direttamente? Specifichiamolo meglio, cioè senza l'aiuto di nessuna preposizione. Complemento oggetto, infatti, è un complemento diretto, cioè che si lega direttamente al verbo. Tutti i verbi possono introdurre il complemento oggetto? No, dalla definizione che abbiamo dato, evidentemente i verbi transitivi, tutti, possono avere il complemento oggetto, perché appunto l'azione fatta dal soggetto transita sul verbo e ricade sul complemento oggetto, ma anche qualche verbo intransitivo. Quali sono i verbi intransitivi che ammettono il complemento oggetto? Sono quei verbi che presentano la stessa radice del termine che segue il verbo, cioè del complemento oggetto. Quello che, senza troppi giri parole, si può dire l'oggetto interno, cioè il complemento oggetto presenta una radice identica a quella del verbo o almeno dello stesso significato. Proviamo a fare degli esempi per chiarire meglio questo secondo concetto, ma dato che ci troviamo, facciamo anche un esempio per il primo concetto, cioè i verbi transitivi. Dario compra il giornale, comprare un verbo transitivo, e quindi di fatto il giornale sarà un complemento oggetto. Ma andiamo alla seconda ipotesi, cioè quella dei verbi intransitivi. Rita ha vissuto una vita serena. Come vedete, il verbo ha vissuto, quindi vivere, è caratterizzato la stessa radice del complemento oggetto, vita. Vissuto, in questo caso nostro, vita. Vivere, per indicare il verbo, vita. Quindi, anche se il verbo vivere è un verbo intransitivo, fa lo stesso che il complemento oggetto, vita, abbia la stessa radice del verbo vissuto, vita può essere un complemento oggetto, e sarà un complemento oggetto, appunto, con un verbo intransitivo. Vediamo qualche altro esempio. Ho pianto lacrime a mare. Beh, qui non possiamo parlare di stessa radice, però, evidentemente, complemento oggetto lacrime fa chiaramente riferimento al verbo piangere, e quindi di fatto il significato è simile, e quindi anche in questo caso, anche se piangere è un verbo intransitivo, di fatto lacrime diventa il complemento oggetto. E vediamo l'ultimo caso. Sara dorme sogni tranquilli. Anche in questo caso ci rendiamo conto, il verbo dormire è un verbo intransitivo, ma sogni non ha la stessa radice di dormire, però di fatto si trova nello stesso ambito, cioè nel senso il significato è praticamente a fine, e quindi, anche se dorme è un verbo intransitivo, sogni sarà un complemento oggetto. Da che cosa può essere costituito un complemento oggetto? Ora, il complemento oggetto, l'abbiamo visto anche dagli esempi, può essere costituito da un nome, da un sostantivo. Dario compra il giornale, il giornale è appunto un nome. Papà vuole te, l'abbiamo visto anche in questo, nell'esempio da cui abbiamo preso le mosse. Te è ovviamente un pronome. Amo passeggiare. Ecco, qui abbiamo appunto un verbo addirittura, all'infinito. Quindi, in analisi logica diremo, amo che cosa passeggiare. Vediamo l'ultimo caso, l'ultimo esempio. Ignoro il perché del tuo gesto. Perché è un complemento oggetto ed è caratterizzato da una congiunzione. Grazie. 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 Grazie.